Alla presenza di Alexis Tsipras, primo ministro greco, Trans Adriatic Pipeline ha celebrato l'inizio della costruzione del gasdotto. Il valore strategico di TAP è stato sottolineato dalla presenza del primo ministro della Georgia Krivazivli, del vice primo ministro dell'Azerbaijan Eubov e del vice primo ministro greco Pelesci. Presenti alla cerimonia anche delegazioni governative di Bulgaria, Svizzera, Turchia, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Per l'Italia ha partecipato all'incontro il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Il primo ministro della Repubblica ellenica Tsipras ha, tra le altre cose, sottolineato nel suo discorso che l'inizio della costruzione del Trans Adriatic Pipeline avviene in un momento decisivo per l'economia greca e dell'intera regione. Tenendo conto anche degli aspetti finanziari del progetto, assicurare i fabbisogni energetici dell'Europa e diversificare le fonti e le rotte dell'energia sono il fondamento sia della strategia energetica del nostro Paese che della complessiva pianificazione europea nel settore. Per quel che riguarda il suo significato geostrategico, ha aggiunto Tsipras, questo progetto può far sì che l'energia divenga un'occasione di collaborazione e prosperità per tutti nella nostra regione. Hanno partecipato all'evento azionisti TAP e più di 300 importanti ospiti. La cerimonia si è conclusa con la posizione delle firme degli ospiti su un tubo del gasdotto. Jan Bradshaw, consigliere delegato di TAP, ha così commentato L'evento di oggi è una pietra miliare per TAP, per i nostri azionisti e per il panorama energetico dell'Europa. Dopo aver vinto la gara nel 2013 e aver lavorato diligentemente per preparare questo momento, siamo entusiasti di aver cominciato a costruire il gasdotto, un progetto strategico per l'Europa, che a partire dal 2020 e per decenni trasporterà gas da una nuova fonte, il Mar Caspio, e attraverso una nuova rotta, il Corridoio Sud del Gas. Il nostro impegno in questo progetto, insieme con il sostegno di tutte le realtà presenti qui oggi, ci aiuterà a consegnare il gas sui mercati europei nei tempi previsti, assicurando significativi benefici economici ai paesi che ci ospitano e a quelli dove il gas verrà venduto. TAP contribuirà anche a integrare e diversificare gli approvvigionamenti energetici dell'Europa, dando un significativo aiuto a migliorare la sicurezza energetica. TAP è un gasdotto da 48 pollici di diametro, che costituisce la parte europea del Corridoio Meridionale del Gas, che consegnerà 10 miliardi di metri cubi all'anno, di nuove forniture di gas del Caspio a partire dal 2020. Grave infortunio sul lavoro presso la ditta di costruzioni Le Adri, che si trova sulla Lecce Maglie, all'altezza dello svincolo per Sternatia. Un operaio, Settimio Esposito, 55enne di Caprarica, intorno alle 9 di questa mattina è rimasto schiacciato da un camion che stava effettuando una manovra e che si è ribaltato a causa di alcune zolle di terra. L'uomo si trovava alla guida di un grosso mezzo e a quanto pare stava scaricando del pesante materiale quando all'improvviso è avvenuto il ribaltamento. I colleghi sono subito accorsi per verificare le sue condizioni e, sebbene non avesse perso conoscenza, la situazione è apparsa subito drammatica. Proprio a causa del rovesciamento, infatti, l'uomo è rimasto schiacciato all'interno dell'abitacolo. L'operaio, soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. La prognosi è riservata. L'uomo ha subito un trauma cranico e uno schiacciamento del torace. I medici, in queste ore, stanno facendo di tutto per salvargli la vita. A intervenire sul posto, oltre ai carabinieri, gli ispettori dello Spesal. Ancora poco chiare le dinamiche dell'incidente. Spetterà dunque alle forze dell'ordine ricostruire un quadro preciso di quanto accaduto. Torna in azione la banda del buco. I banditi hanno messo a segno un furto poco prima dell'alba della scorsa notte nel centro scommesse Eurobet di Via Mincio, nel quartiere Santa Rosa di Lecce, proprio nelle vicinanze del Coni. I malviventi, dopo aver praticato un buco nella parete attigua all'esercizio, si sono introdotti all'intero del locale, portando via i soldi contenuti nel registratore di cassa, per poi fuggire indisturbati, visto che l'allarme, a quanto pare, non è entrato in azione o è stato disattivato. Il bottino è in via di quantificazione. A scoprire il furto sono stati i gestori del centro scommesse, questa mattina all'orario di apertura. Sul posto gli agenti di polizia, che sperano di ricavare elementi utili alle indagini dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, per cercare di risalire all'identità dei malviventi. Non è la prima volta che l'Eurobet di Via Mincio viene preso di mira dai ladri. Un paio di anni fa, un rapinatore solitario portò a termine la sua azione criminosa, scappando via con un bottino di oltre 2.000 euro. Una lite per futili motivi tra due fratelli, una delle tante, che questa volta ha rischiato di finire in tragedia. Un uomo di 40 anni, di Bari, Alfonso Capone, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri del capoluogo pugliese per aver colpito e ferito alla testa con un'ascia suo fratello nel corso di una lite e accusato di tentativo di omicidio. Decisiva la testimonianza della madre e dei due che ha riferito ai carabinieri quanto accaduto tra i suoi due figli. L'episodio è accaduto nel quartiere San Paolo, dove i carabinieri sono intervenuti nell'abitazione dei due dopo una segnalazione al 112. I militari hanno bloccato il quarantenne con gli abiti ancora sporchi di sangue, mentre stava tentando di allontanare da casa. Nel frattempo suo fratello, 46enne, vittima dell'aggressione, nonostante fosse vistosamente ferito alla testa, aveva raggiunto la caserma dei carabinieri per denunciare l'accaduto. Il ferito è stato soccorso dagli operatori del 118 e accompagnato nell'ospedale di Venere di Carbonara, dove è ora ricoverato con riserva di prognosi. In una veranda dell'abitazione di famiglia i militari hanno sequestrato l'ascia usata per l'aggressione. La Procura regionale della Corte dei Conti di Bari ha sottoposto a sequestro conservativo beni immobili e conti correnti bancari per un valore di oltre 3.600.000 euro, appartenenti alla società Sparkol che ha realizzato a Casarano uno stabilimento per la produzione di un radiofarmaco. Sotto sequestro lo stabilimento che produce il farmaco, l'abitazione dell'amministratore e i saldi di sette rapporti bancari. L'inchiesta contabile è parallela all'inchiesta penale che ha portato nel dicembre 2015 alla denuncia di quattro persone tra soci e manager dell'azienda e di un dirigente comunale per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, falso ideologico, abuso d'ufficio, nonché al sequestro preventivo di immobili, impianti e macchinari utilizzati per la produzione dei medicinali. L'inchiesta riguarda i finanziamenti erogati dalla Regione Puglia per la produzione di un medicinale usato come liquido di contrasto per esami radiologici di sospette malattie tumorali. La Procura della Corte dei Conti ha rilevato un illecito arricchimento causato dal comportamento doloso dell'amministratore della società e un danno erariale certo, effettivo e attuale. La Regione Puglia ha tagliato drasticamente i fondi per l'anno 2016 necessari alla campagna antincendio boschivo, una situazione che rischia di portare al collasso il servizio e che mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini pugliesi. A lanciare l'allarme è Alessandro De Giorgi, segretario provinciale della Will PA, Vigili del Fuoco, di Lecce. A meno di un mese dall'inizio della campagna antincendio boschivo, la Regione Puglia prosegue imperterrita nella sua sciagurata decisione di tagliare in maniera sconsiderata e imprevista i fondi necessari per tale servizio, che passa dunque da 1.500.000 euro a soli 500.000 euro. Nonostante l'attuale quadro normativo continui ad affidare alle Regioni la competenza in materia di lotta attiva agli incendi. Non potranno dunque essere garantite le squadre aggiuntive di Vigili del Fuoco, che nel 2015 hanno portato a compimento ben 6.507 interventi per un totale di oltre 10.000 ettari di superficie. I Vigili del Fuoco, impegnati negli ordinari interventi di soccorso tecnico urgente, in una situazione di grave carenza di organici e di mezzi di soccorso, senza le squadre aggiuntive garantite dalla Regione Puglia, non saranno dunque in grado di intervenire in maniera efficace sugli incendi boschivi, determinando pertanto una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità. È chiaro dunque, si legge in un comunicato ufficiale, che la Regione Puglia vuole fare cassa a scapito della sicurezza dei cittadini, pensando che quello sulla sicurezza sia un costo e non invece un importante investimento, condannandoci a pagare un costo ben più salato. Pertanto la Will, Vigili del Fuoco Puglia, chiede agli organi preposti un intervento urgente e tempestivo, finalizzato a intercedere presso le competenti sedi al fine di porre rimedio a questa situazione di particolare gravità. Si è riunito ieri il C.P.A., il Comitato Permanente Aziendale della Asla di Bari, per prendere atto della gradatoria definitiva degli oltre 120 medici che hanno partecipato all'avviso pubblico, di cui circa 100 potranno essere inseriti nei punti di primo intervento e gli altri saranno impegnati sulle ambulanze medicalizzate. Bisogna continuare a lavorare con la stessa determinazione. La mia richiesta ora è che i punti di primo intervento che non rientrano nell'accordo integrativo regionale vengano trasformati in AIR e operare in conformità alle vigenti normative, al fine di garantire servizi adeguati ed efficienti. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli. Stiamo seguendo la vicenda passo dopo passo, prosegue Damascelli, e chiediamo che gli uffici della Asla provvedano celermente a compiere tutti gli atti burocratici necessari alla chiamata dei medici in questione, affinché possano iniziare la loro attività nei luoghi indicati. Con questo potenziamento di personale, i punti di primo intervento dovrebbero tornare ad essere operativi anche di notte, con il turno H24. Per questo, conclude Damascelli, dobbiamo continuare a vigilare sull'operato di Regione e ASL, perché siano garantiti a tutti i pugliesi servizi di pari qualità e quantità ed una seria e omogenea rete della emergenza urgenza. E' partita questa mattina la prevendita dei tagliandi per assistere alla gara di andata della semifinale play-off tra il Lecce e il Foggia. Dalle 9 di stamattina, presso i punti vendita autorizzati del circuito Lottomatica e anche presso il botteghino dello stadio Via del mare, si possono finalmente acquistare i biglietti per la gara che mette in palio il passaggio alla finalissima degli spareggi per approdare in Serie B. Il match è in programma domenica, ma è stato anticipato dalle ore 20.45 alle ore 18 dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive per ragioni di ordine pubblico. I possessori di abbonamento stagionale potranno confermare il proprio posto fino alle 13 di giovedì e solo presso Salento giallorosso, Bettitali di Lecce, Maglie e Tricase e allo stesso botteghino. Sono comunque a disposizione da subito i biglietti riferiti a posti non vincolati da abbonamenti. Per quanto riguarda i prezzi Curva Nord 10 euro, Tribuna Est 12 euro, Tribuna Centrale Inferiore 16 euro, Tribuna Centrale Superiore 23 euro e Poltronissime a 45 euro. Non è prevista l'iniziativa Porta un Amico ed è vietato l'ingresso nel settore riservato ai residenti in provincia di Foggia non titolari della tessera del tifoso. Continua oggi con una doppia seduta la preparazione del Lecce in vista del derby domenica prossima con i Satanelli. In mattinata i giallorossi hanno lavorato al Via del Mare soffermandosi soprattutto con allenamento in palestra. Nel pomeriggio la squadra si trasferisce a Martignano per una seduta a porte chiuse incentrata in particolare sulla tattica. Oltre a Gianluca Freddi che sarà di sicuro indisponibile hanno lavorato in differenziato Camisa e Vecei che saranno valutati nelle prossime ore. Il difensore e il centrogampista ungherese già disponibili domenica scorsa per la sfida con il Bassano sono dunque in dubbio anche per il derby di domenica.